Vediamo insieme il tutorial di questo trattamento con nail art e pigmenti fluo. Con punta a cono tronco spingo la cuticola liberando la maggior parte di superficie possibile e creando il muretto cuticolare. Scopri la tecnica di salon manicure non invasiva per ottenere un giro cuticolo e pulito sul mio manuale la ricostruzione unghie secondo Micole, in vendita su Amazon. Con il kit di punta per manicure base realizzo la preparazione della cuticola al trattamento, eseguendo l'apertura del canale cuticolare. Anche questa, come tutte le altre tecniche di ricostruzione unghie da salone in gel, gel acrilico e semi permanente, è descritta sul mio manuale o nel mio corso tecnico completo, che oggi per l'ultimo giorno trovi in promozione a un prezzo fantastico. Scrivici in privato per ricevere tutte le informazioni. Dopo aver applicato kit massima aderenza e il costruttore ad alta tisotropia Fantastic Rose Builder, eseguo la limatura strutturale con la tecnica di limatura zone. Successivamente taglio la cuticola con forbici per dry manicure. Trovi tutti i prodotti di questo video e molti altri sul nostro sito leunghiedimicol.com Con il kit di punte per manicure avanzata, levigo la zona periunguale. La tecnica di limatura zone per ottenere una struttura di ricostruzione sottile ma resistente è trattata nel dettaglio sul mio corso tecnico completo. Non perdere l'occasione di realizzare finalmente le unghie da salone che hai sempre sognato. La promozione attualmente valida comprende anche 30 tecniche di nail art da salone per realizzare finalmente i decori che fidelizzeranno le tue clienti e aumenteranno il passaparola. Con pennello punta fine e bianco premium eseguo la base per la nail art in superficie. Dopo aver polimerizzato, spolvero pigmenti fluo sfumandoli uno con l'altro facendoli aderire alla dispersione del colore. Guarda come tornano le mie clienti dopo 4 settimane sulle storie del profilo Instagram leunghiedimicol. Tutti i giorni ti faccio entrare in laboratorio con me. Confrontati con altre 20.000 ragazze riguardo l'utilizzo dei prodotti della nostra linea iscrivendoti al nostro gruppo chiuso di Facebook leunghiedimicol. Acquistando ora la nostra formazione riceverai anche il mio numero di Whatsapp attraverso il quale potremo avviare una chat diretta nella quale correggerò i tuoi lavori e risponderò a tutte le tue domande. Non perdere nessun tutorial e nessuna spiegazione tecnica iscrivendoti al nostro canale di Youtube leunghiedimicol. Dopo aver sigillato con top matte velluto aggiungo dettagli alla nail art con deco gel bianco e pennello perfetto. Anche questa tecnica di sovrapposizione come tante altre è oggetto del mio corso di nail art completo da salone. Se il video ti è piaciuto e vuoi vederne altri come questo metti un like e condividi. Grazie Grazie